Va bene amici, allora torniamo ancora una volta a ridere perché torna, e scusate anche il gioco di parole, sul palco del live show, Stefano Cairone! E dai, fatelo che il primo è quello che mi incoraggia di più! Bravi, bravi, bravi! Ok, siete il miglior pubblico che abbia mai avuto. Vabbè, ho avuto qui sempre, funziona di solito. Signori, è Natale, è ufficiale, il Natale è arrivato, che meraviglia! Comincia a materializzarsi nell'aria, quella cosa che c'è ma non si vede, la magia del Natale. Che poi in realtà inizia già con l'inizio di dicembre, quando tua moglie a un certo punto viene da te e ti dice Mi guarda che pancia gonfia, mi devo mettere a dieta, se no a Natale come ci arrivo? A dieta, sotto Natale, è come far tagliando la macchina prima di rottamarla. E' come lavarti i denti prima di andare a mangiare, che senso ha? Che poi io, tu, se ti mangi una fettina, un'insalata, dobbiamo allargare la cinta. Ma lei no, lei mangia di tutto, un grammo non lo prende, eppure deve fare dieta, perché ha la pancia. Ma quale pancia? E lei no, è come la magia del Natale. C'è, ma non si vede. E così arriva il 25, arriva finalmente Natale, tra chi mangia e chi non mangia, arriva il giorno di Natale. E si va tutti dalla nonna, che meraviglia. Si va tutti dalla nonna perché è lì che poi c'è il menù quello completo, si mangia di tutto, primo, secondo, contorno, dolce. C'è l'impossibile, ma la vera meraviglia. La meraviglia è l'atmosfera, è quell'aria che si respira. Non lo so come spiegarlo, è la magia del Natale. Tutto c'è, ma non si vede. Il profumo di festa, l'amore che c'è nell'aria, la pensione della nonna. Tutto c'è, ma non si vede. E c'è un'altra cosa che c'è, ma non si vede. Babbo Natale. Sì, lo so, c'è chi dice che non esiste, ma si sbagliano. Si sbagliano, lui esiste. Lui esiste perché esistono i desideri. E non serve essere piccoli per crederci. Basta credere che ci sono persone buone, capaci di fare cose buone. Il problema, sapete qual è? Il problema è che la magia del Natale, forse la stiamo un po' perdendo. Quando eravamo piccoli noi, quando ero piccolo io, a scuola ci facevano fare tutti i lavoretti, ci facevano fare i disegnini. Ci facevano scrivere la lettera a Babbo Natale. E ci parlavano di quest'uomo con la barba che lascia un pacco lì per terra e scappa via. Oggi se a un bambino gli racconti di un uomo con la barba che lascia un pacco per terra e scappa via, pensa a un talebano, un terrorista. Un corriere Amazon. L'abbiamo persa. L'abbiamo persa. Eppure lui è l'unico che è capace ancora di farci i regali giusti. L'unico. Perché tutti gli altri in realtà vi faranno o regali sbagliati o regali reciclati. È vero? A me l'anno scorso una mia zia mi ha regalato un maglione marrone, dolce vita, con le trecce. È venuta tutta contenta. Ti piace? Hai visto? Siccome ho visto che non avevi mai avuto uno marrone, eh? E allora? E allora se non avevo mai avuto uno marrone non ti viene il dubbio che è perché marrone non mi piace. È contenta, è contenta. Però te lo devi prendere. Invece no, Babbo Natale è l'unico che te lo fa giusto. Perché tra l'altro è l'unico alla quale l'hai chiesto. Il regalo sbagliato è una cosa vecchia di duemila anni. Gli stessi re maggi ci insegnano che normalmente due regali su tre fanno cacare. Non servono. Che poi Gesù, bene o male, l'incenzo in chiesa è riuscito a smerciarlo. Ma la mirra, la mirra, ma che mirra di regalo è? Me lo sono sempre chiesto. Però quelli sono i re maggi e non si toccano. Protagonisti indiscussi del Natale, tra l'altro protagonisti indiscussi anche del presepe. Anche se il mio personaggio preferito nel presepe resta sempre e comunque San Giuseppe. Questo personaggio che io ho sempre visto con ammirazione, ho sempre visto con tenerezza quasi e che mi sono sempre immaginato nell'imbarazzo più totale di quando nato Gesù deve andarlo a registrare all'ufficio anagrafe. Arriva e l'impiegato dell'ufficio anagrafe gli dice il nome del padre. Del figlio all'ospedale. No, guardi, non faccio lo spiritoso. Il nome del padre. Mi serve il nome del padre. Il nome del padre. Il nome del padre è una lunga storia. Non lo so se capirebbe. Senta, io qua devo mettere il nome del padre. La verità lo sa qual è. Che anche questa è la magia del Natale. Ma che c'entra la magia del Natale con il padre? C'entra. Perché il padre, come la magia del Natale, c'è. Ma non si vede. Lo sapete qual è il problema? Lo sapete qual è la verità? Che ci hanno sempre detto, ci hanno sempre spiegato, ci hanno sempre insegnato che è vedere per credere. Ma non sempre è così. A volte le cose sono diverse. La magia del Natale. Babbo Natale. Il padre. L'amore. L'amore stesso. È solo se credi che riuscirai a vedere. Quindi, signori, aprite gli occhi e aprite il cuore. Perché è Natale. Stefano Cairone. Stefano Cairone. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Va bene. Grazie Stefano. Grazie a voi. Buon Natale a tutti. Un bacio. Ciao.